Dopo la distruzione della riserva naturale dello Zingaro sono qui presenti i vertici regionali rappresentati dall'assessore Aiello, un disastro naturale che non riguarda soltanto il patrimonio della vegetazione fonistica ma è anche un danno economico per il turismo. Assessore Aiello? Assolutamente sì, purtroppo abbiamo assistito in quest'ora questo disastro ecologico ma non è soltanto un disastro ambientale come dicevamo prima è anche un disastro che potrebbe essere di natura economica per il turismo la riserva dello Zingaro ha circa 200.000 visitatori l'anno, purtroppo da qualche giorno non sarà più possibile visitarla quindi la priorità è la riapertura della riserva. Capiremo poi i ritardi a che cosa sono stati dovuti ci sarà una proposta per una delibera di giunta per la calamità di calamità naturale vedremo se almeno un mezzo della protezione civile del corpo forestale potrà essere dislocato all'aeroporto di Birgi per i più rapidi interventi. Perché questi ritardi? Perché mancano mezzi? Perché ci sono negligenze? Chi sono i responsabili di questa situazione così grave? I mezzi sono quelli purtroppo che abbiamo e per ora stiamo assistendo in lungo e in largo nella Sicilia incendi soltanto ieri in provincia di Messina 90 roghi c'è l'emergenza ambientale della discarica di Bello Lampo che è stato spento soltanto qualche ore fa una serie di inconvenienti che hanno fatto sì che ci sia stato un ritardo ma non dovuto sicuramente a responsabilità ma a delle priorità. Assessore Aiello, danni inestimabili? Sicuramente inestimabili se si considera anche che in questa area il turismo è in gran parte lo zingaro ci si può rendere conto del colpo che è stato inverto a questo territorio e la domanda ce la dobbiamo fare chi è che è contro lo zingaro? Perché possono accadere cose di questo genere? quali sono gli obiettivi ma non solo in questo punto della Sicilia qui allo zingaro dove è lecito porsi la domanda perché nulla credo accada per caso ma anche in altre parti della Sicilia c'è emergenza, c'è il caldo, ci sono le difficoltà ma gli incendi da soli non nascono gli incendi vengono provocati e in quest'area sicuramente sono addormentate sopite appetiti appetiti antichi, nuovi, moderni, di vecchia, di nuova fattura che sono in moto per colpire, per dargli segnali qualcuno ha parlato anche di una strategia di una strategia, di una regia che può essere presente qui allo zingaro può essere presente in altre parti dell'isola detto questo esiste un problema anche di coordinare al meglio le risorse che sono in campo a partire non solo dalle nostre strutture di cui io personalmente sono assessore sono venuto qui anche a fare l'encomio l'elogio degli operai che unici si sono impegnati assieme alle altre squadre per spegnere l'incendio ma c'è un problema di coordinamento generale i Canada sono intervenuti 18 ore dopo la prima segnalazione hanno fatto due prelievi non hanno attinto agli incendi e se ne sono andati ho la sensazione venendo qui venendo qui non venivo da molto tempo in quest'area che c'è qualcosa di strano qualcosa che ci dovrà indurre a vedere in realtà quello che è accaduto il fatto stesso che si siano verificati più incendi nella stessa in pochi chilometri quadrati perché qui nel golfo di Castellammare incendi a Borgetto incendi a Alcamo Marina a Castellammare del Golfo fino a Erice nel giro di poche ore questo è un elemento un elemento sicuramente che riguarda le condizioni generali anche di emergenza 45 gradi ma c'è sempre il dolo secondo me dietro molti di questi incendi c'è una volontà o di dare segnale o di strategia quindi non siamo di fronte ai piromani come qualcuno dice il piromani ci può essere ma sono troppi e troppo mirati e troppo particolari lo zingaro è un simbolo da questo punto di vista di tante cose e probabilmente se vogliono dare segnali non solo contro lo zingaro ma anche probabilmente per delle soluzioni tra l'altro stiamo proponendo un protocollo che abbiamo già sottoscritto a Siracusa col Ministero degli Interni le prefetture con le ripartizioni faunistico-venatorie con le province direi con le altre branche dell'amministrazione per mettere a protocollo l'esercizio di guardie volontarie che possono essere immesse nei territori rapidamente senza costi elevati centinaia e centinaia di persone che possono essere portate spinte sui territori senza costi attingendo al volontariato che è una grande risorsa che ci può aiutare in questo momento per essere presente nei territori questa partita non la possiamo perdere una partita importante non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista politico dal punto di vista sociale la Sicilia va difesa e va difesa anche soprattutto dall'associazione di volontariato riunita in protocollo attorno alle istituzioni questa è una delle iniziative che stiamo facendo è una situazione questa generalizzata ma qui siamo in un angolo naturalistico molto importante e lei si sta rendendo conto effettivamente di come la situazione sia degenerata ma guardi questo è un simbolo anche perché è la prima riserva istituita in Sicilia è la prima che è stata data in gestione alla nostra azienda foresta e devaniali noi la tenevamo come un gioiellino evidentemente a qualcuno tutto questo non è piaciuto e hanno cercato di devastarla siamo riusciti a salvare il salvabile con i pochi mezzi che avevamo a disposizione l'assessore prima ha rimarcato questo problema forse se si interveniva in tempo da parte di quelli che erano gli interventi e attraverso il Canada Air il pericolo potevamo scongiurare in massima parte con i pochi uomini che avevamo a disposizione sia i nostri che pur se non preposti all'intervento di antigenio insieme alle squadre che sono arrivate da parte del comando forestale si è riusciti a salvare per l'appunto il salvabile noi contiamo comunque in poco tempo di rimettere in gesto la riserva anche per dare un segnale preciso a chi ha voluto determinare questo scempio che noi siamo nelle condizioni di risollevarci e risollevarci rapidamente a chi ha voluto